benvenuti benvenuti cari amici siamo bit in questo nuovo video oggi vogliamo parlare di terra luna perché ci sono importantissimi aggiornamenti ovviamente alla fine anche di bitcoin per cui iniziamo subito con questo articolo perché che cosa ci dice che don't know che vuole creare un nuovo fork ok su terra luna che verrà chiamato terra classic quindi in sostanza che cosa succederà? succederà che oramai il progetto terra luna ok è morto verrà creato questo nuovo progetto terra classic ok sempre support della blockchain di luna e senza la presenza ok della stablecoin westy probabilmente sappiamo tutti come questa stablecoin ha decretato la fine di quello che è stato il progetto terra luna ovviamente che cosa vuole fare da un nuovo progetto uguale senza la stable questo è il succo infatti ha twittato ok che terra è più ok di westy cioè della stablecoin è molto di più ora andiamo a vedere questo articolo che secondo me è molto importante perché sostanzialmente riguarda ok quello che sarà il piano per ricostruire il nuovo progetto che era chiamato terra classic lui continua a affermare che per l'appunto terra è molto di più rispetto a westy ci sono migliaia ok centinaia di developer che stanno lavorando sul progetto naturalmente non so se lo sapete ma questo è l'ecosistema di terra ok solamente una parte dell'ecosistema che si basava principalmente sulla stablecoin westy però noi sappiamo anche come al suo interno contiene yield farming nft idoplatform platform social lending borrow e chi più ne ha chi più ne metta dex quindi ovviamente donno cerca di poggiare sul fatto ok che terra luna non è solamente per lo più una stablecoin e ora vorrei andare a vedere con voi quelli che sono i punti o che i focali sui quali si sta concentrando donno ha fatto dei importanti tweet per cui andiamo subito a vederli sostanzialmente ha affermato ok che quella che era terra luna si chiamava luna invece la nuova luna classic ok questo sarà il progetto detto anche terra classic avrà la denominazione lung e lui afferma che entrambe le cene continueranno a coesistere noi sappiamo quora mai il prezzo di luna è crollato però anche luna continuerà ad esistere proprio ci sarà luna e poi questo nuovo progetto terra classic in più coloro che sono i detentori luna riceveranno anche un airdrop ok in lung quindi comunque chi continua a doldare chi ha i luna in staking chi ha i usdt ok scusate i usdt e ancora ok li detiene riceverà ok l'hardrop di lung naturalmente secondo me che cosa potrebbe succedere ipotesi probabile ma di tutti riceveremo l'hardrop ok questa sostanzialmente non mi dia anche perché sono portati via miliardi ma li riceveremo però non so se l'agento che crederà in questo progetto quindi potremmo avere subito un dump ma di tutti appena ricevono l'hardrop prendono e vanno a vendere visto quello che è successo poi altra cosa che afferma donno è la seguente sappiamo tutti gli sforzi ok che ha fatto luna foundation per sostenere usdt naturalmente questi tutte tutte queste azioni che impiegato non sono state sufficientemente valide e per cui lui ha detto ok andrò a creare questa nuova coin che poggerà appunto e decreterà l'inizio di terra 2.0 e infine diciamo sta affermando che loro stanno davvero lavorando in maniera veloce per creare questo nuovo fork che verrà presto aperto al pubblico e già in data ok 27 maggio potremmo avere la nascita ok di questo fork sembra che proprio ci stiano lavorando in queste ore gli sviluppatori di luna tra l'altro lui afferma che oltre un miliardo di luna token ok verranno divisi tra i sviluppatori ok quindi innanzitutto verranno dati questi nuovi token della nuova chain agli sviluppatori probabilmente verranno dati sviluppatori perché perché secondo me dono andrà a pagarli con questo nuovo token e successivamente che andranno a spingere proprio per favorire il lavoro degli sviluppatori e dargli un incentivo ok a lavorare su questo nuovo progetto poi verrà i secondi a ricevere questo hard drop saranno gli holder di UST e a seguire diciamo tutti gli altri che ha i luna in staking e poi penso infine solamente chi ce li aveva sugli exchange quindi non c'è più quella cosa del prezzo ok che avevo detto che andavano in base al prezzo superiore a un dollaro se riceveva l'hard drop in questo caso ok no non hanno detto nulla sul prezzo tra l'altro queste sono le date in cui dovrebbe uscire il tutto quindi oggi scusate domani 18 di maggio si andrà a votare ok la proposta per la creazione di questa nuova chain di questo nuovo fork penso che passerà perché cioè non vedo perché le persone devono votare contro e pensate il nuovo network dovrebbe essere lanciato se tutto va bene al 27 di maggio per cui andrò ad aggiornarvi in aggiunta che cosa abbiamo un'altra notizia molto importante la seguente non so se lo sapete ma binance aveva investito 1.6 miliardi di dollari in tre luna quando era al massimo ok questo era il controvalore di luna per binance e oggi valgono meno di 3000 dollari quindi penso che diciamo CZ sia un po' incazzato che condono sostanzialmente proprio dicendola in maniera semplice infatti lui ha tweetato proprio che sostanzialmente i tera luna ok di binance valgono al momento solamente 3000 dollari se volete andare a controllare lui ha messo anche il suo address ok del portafoglio di binance e potete constatare che valgono solo 3000 dollari vorrei sapere anche qual è la vostra esperienza ok contro la luna non penso sia così bella ok anche perché il prezzo pensate vale un centesimo di centesimo ok cioè questa è la cosa paradossale la stablecoin addirittura è crollata sotto ai 10 centesimi e per cui infine andiamo a vedere bitcoin bitcoin in questo momento registra un valore di 30.600 dollari quindi sostanzialmente ci troviamo nella situazione che era quella di luglio ok molto simile molto identica solamente con l'esso temporale che è spostato che di un anno e con una maggiore lateralizzazione e voglio andare a vedere con voi alcuni tweet interessanti ok perché ci dicono che bitcoin potrebbe essere in un'ottima area di buy il primo è questo direct capital nei quali gli afferma che bitcoin sostanzialmente sta all'interno della btc law course io ve l'ho più volte ok illustrata all'interno dei miei video come potete vedere stiamo al di sotto che della btc law course siamo addirittura sotto alle area verde ok e addirittura siamo al di sotto della media a 200 settimane quindi questo secondo me è un elemento molto interessante perché storicamente quando bitcoin è sempre stato al di sotto della media a 200 settimane poi è andato a recuperare infine andiamo a vedere anche questo tweet perché solamente ok lui afferma le ultime tre volte nella storia che questo è avvenuto cioè con volumi di vendita così alti successivamente bitcoin è preso e è andato su quindi volumi di vendita così alti hanno sempre indicato un bottom per cui direi che per oggi è tutto se vi è piaciuto questo video vi ricordo di suggerire il botone di like iscrivervi al canale e ci vediamo presto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il botone di like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto grazie a tutti